cari amici cari amiche di angoli ben ritrovati a tutti voi e grazie per essere puntuali al nostro incontro delle 19 la puntata di questa sera chiusura anche della settimana sarà in gran parte dedicata al torrente cosia con le sue criticità il torrente attraversa la città di como e crea delle situazioni che sono state messe ben in evidenza da un reportage che fra poco vi mostreremo a cura come sempre di massimo moscardi ma avremo anche a tal proposito commenti degli esperti in studio con noi l'agronomo luigi biffi grazie luigi per essere con noi questa sera grazie dolores buonasera a te tutti i telespettatori le telespettatrici in una veste diversa perché di solito insomma noi ci sentiamo per argomenti più leggeri ma questa sera insomma un focus su una situazione che forse qualche criticità che va controllata che va controllata allora se sei d'accordo vediamo insieme le immagini poi ritorniamo in studio le commentiamo riflettori puntati sul cosia un corso d'acqua che nasce sul monte bollettone poi scende verso come sfocia al monumento ai caduti passando dal bese con cassano e tavernerio un torrente che nel corso della sua storia ha sempre dato problemi con alluvioni della prima testimoniata si parla già nel 1500 in un'opera di benedetto giovio la più grave l'8 novembre del 1951 a tavernerio che portò alla scomparsa alla morte di 16 persone l'aspetto su cui oggi ci soffermeremo è quello della pulizia dell'alveo del cosia una situazione che negli anni soprattutto gli ultimi è stata segnalata dai residenti ma anche dalle persone che ci passano a fianco specie nel tratto finale che va da cannago alla zona del settificio in città dove poi il torrente è coperto dalla strada negli ultimi tempi sono state segnalate delle situazioni di degrado comunque di piante di vegetazione lasciata in colta che potrebbe dare dei problemi soprattutto in un momento storico come questo dove con il cambiamento climatico e in provincia di como lo abbiamo visto e imparato non mancano i problemi dati dai corsi d'acqua soprattutto quando ci sono temporali molto forti e precipitazioni copiose nel mese di dicembre sono stati effettuati di lavori di manutenzione straordinaria della soglia del torrente cosia qui nella zona di cannago siamo col direttore dei lavori tommaso invernizi ci spiega cosa è stato fatto sono stati effettuati per conto di ersaf interventi per circa 50 mila euro per ripristinare la funzionalità idraulica e non solo anche strutturale di questa soglia che era fondamentale per mantenere il livello di monte e anche il livello di valle del torrente evitare quindi dei trasporti solidi importanti verso la zona dell'abitato di Como quali sono quindi le problematiche? mi diceva che però per esempio non si può spostare ancora la terra che è stata mossa lo chiedo a lei più tecnicamente sì ci sono delle direttive regionali che sono ancora un po' in itinere che in questo momento non permettono l'asportazione del materiale in alveo anche se come si vede in questo tratto ci sono delle zone sovralluvionate ossia con tanto materiale che andrebbe tolto per evitare che venga poi trasportato a valle ma in questo momento non è possibile farlo quindi l'abbiamo lasciato dov'è può diventare potenzialmente un problema perché siamo in una fase lo diciamo spesso anche di cambiamenti climatici delle cosiddette bombe d'acqua e forse non è il caso? non è il caso infatti sarebbe auspicabile che si arrivasse a una definizione non solo sul torrente Cose ma su tutti i torrenti della regione Lombardia che hanno di queste problematiche quindi asportare il materiale dove effettivamente è in eccesso Ingegnere in caso di forti precipitazioni questi depositi di terra e di sassi potrebbero creare situazioni poco simpatiche per la città di Como Esattamente questi depositi sono quello che si può chiamare sovralluvionamento di un alveo nel senso che è il materiale che c'è in più rispetto a quello che ci dovrebbe stare nel torrente La cosa che si auspica da anni su tutti i torrenti della regione Lombardia è che ci sia un piano che vada a definire come quanto e i costi di questi smaltimenti che sono non solamente a mio avviso ma un po' di tutti i tecnici e di molti sindaci fondamentali per la sicurezza di tanti abitati che stanno a valle in questo caso di Como L'ospicio è che si trovi una soluzione perché, l'abbiamo detto, in caso di forte precipitazione questa terra e questi sassi si riverserebbero verso il centro città Esattamente perché l'evento di piena andrebbe a occupare l'intera sezione del torrente quindi tutto quello che trova andrebbe a roderlo e quindi a trasportarlo verso valle e quindi qui verso Como Cogliamo l'occasione e chiediamo com'è questo tratto finale che poi va verso la foce Negli anni sono stati segnalati problemi, gli alberi, la sporcizia Adesso un po' com'è la situazione? La situazione per vari interventi di ERSAF, soprattutto per il taglio vegetazionale, migliorata Comunque sul tratto di monte ci sono interventi che andrebbero realizzati non solamente a livello di taglio ma anche a livello di interventi strutturali di regimazione idraulica Abbastanza importanti L'isola che non c'è è una famosa canzone di Bennato Noi vi mostriamo sul torrente Cosia la nuova isola che invece c'è Per incuria o comunque per mancanza di manutenzione Negli anni si è formata questa sorta di isoletta a fianco del torrente che porta ad un restringimento certo poco sicuro in caso di forti piogge Un'isola che d'estate viene anche quasi utilizzata come spiaggia Mentre negli spazi qua sotto il ponte dove ci troviamo Negli anni sono state segnalate anche le presenze di senza tetto che sono venuti a dormire Sicuramente non in questa che è la stagione invernale Chi vive nella zona ci ha detto che anni fa venivano con i camion per pulire l'alvio del torrente per comunque lasciare il doveroso spazio e lo scorrimento dell'acqua Ora invece c'è questo nuovo spazio che va tenuto monitorato e ovviamente una situazione che deve essere tutta valutata Questo è il punto dove il Cosia è stato coperto e poi prosegue il suo viaggio fino alla focia a fianco del monumento ai caduti Fino a pochi anni fa qui c'era una vera e propria giungla Lavori di pulizia sono stati effettuati anche se lo possono testimoniare le nostre immagini non manca la presenza di piante e di sporcizia Il dato di fatto è che la gestione, la manutenzione di un corso d'acqua è sempre una cosa delicata I rischi non mancano mai Purtroppo, ovviamente, noi terremo monitorata la situazione di questo che è uno tra i corsi d'acqua più importanti del territorio visto che sfocia proprio nella città di Como in una zona di pregio come quella del monumento ai caduti e il quartiere razionalista Gigi, ti ho visto seguire con molta attenzione le immagini del reportage Qual è il tuo punto di vista generale, la tua valutazione di primo acchito? Siamo in un momento di evoluzione Ecco, si è parlato di stravolgimenti, di cambiamenti climatici ma io più in generale direi che siamo anche in un momento di cambiamento del territorio Stiamo arrivando in un periodo dove la parte fuori dall'abitato è praticamente quasi abbandonata cioè nel corso degli ultimi 20-30 anni è mancata la manutenzione, la gestione in questo caso dei boschi, delle parti collinari, boschive e questi problemi oggi ce li troviamo proprio davanti Un tempo non era così di fatto? Il tempo non era così anche se il servizio di Moscardi ha evidenziato che nel corso dei secoli comunque c'erano questi eventi drammatici, catastrofici probabilmente erano molto più limitati erano sostanzialmente meno numerosi ma c'era anche più una cura e gestione del territorio anche magari per necessità faccio solo un esempio nessuno aveva il riscaldamento diverso dalla legna, dal camino, dalla stufa eccetera Quindi si andava a raccogliere, si teneva pulito? Si teneva pulito E già questo è un primo modo di fare prevenzione di mantenere il territorio presidiato Ormai pochi hanno il camino se non magari per bellezza lo si è acceso magari nelle ultime festività ma non è più una fonte di riscaldamento principale con tutto quello che ne consegue Quindi manutenzione e pulizia dell'albo un aspetto molto importante questa penisola che è sorta che Massimo ci ha messo in evidenza è dimostrazione forse proprio del deposito di materiali che poi addirittura hanno creato questo spazio Pertanto il tuo suggerimento da tecnico in primissima battuta quale potrebbe essere? Partiamo da dove? Partiamo da dove sono state evidenziate le criticità Ho visto appunto che ci sono dei punti dove è necessario intervenire il prima possibile a esportare del materiale perché se nel corso della prossima stagione primaverile ci fossero degli eventi molto pesanti di pioggia sicuramente qualche problematica speriamo che non si arrivi all'esondazione potrebbe esserci ma nel contempo bisogna anche cercare di pianificare quello che si chiama oggi la governance tanto per dare un parolone ma è governare il territorio cioè mettere già dei paletti, degli step per riprenderci la gestione e il governo del territorio perché noi possiamo pulire l'alveo del fiume ma tutto quello che c'è a monte come diceva anche l'ingegnere è un problema ci sono piante già cadute con le trombe d'aria che ci sono succedute in questi ultimi mesi sono pronte lì a entrare nel letto del torrente e arrivare a valle e a creare davvero dei grossi problemi Gigi se sei d'accordo io ti terrei ancora qui con me ci fermiamo per una breve pausa e poi ripartiamo da qui e poi c'è anche un altro aspetto un pochino più simpatico che voglio vedere con te bene a tra poco grazie a tutti